Scivola sui binari e non riesce a rialzarsi prima che il treno che percorre la linea Bassano Trento lo raggiunga e lo travolga senza dargli scampo. Sembra essere questa al momento la dinamica del tragico incidente avvenuto attorno alle 21 di ieri a San Marino di San Nazario, vittima a un 56enne del posto Roger Nero. Con molta probabilità l'uomo che risiedeva assieme ai genitori e a un fratello proprio lungo la ferrovia stava rientrando a casa quando forse per una distrazione o un malore è caduto tra le rotaie senza più riuscire a rialzarsi. L'ipotesi dell'incidente pare la più plausibile per il tipo di ferite riportate dall'uomo. A giudizio dei sanitari le lesioni escluderebbero che il 56enne abbia scelto di sdraiarsi volontariamente lungo i binari. Nessun testimone comunque ha assistito alla scena. Sul posto oltre ai sanitari del 118 sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Bassano e la Polfer di Castelfranco Veneto mentre il triste compito di riconoscere l'assalma è toccato prima al medico del paese e poi al fratello Rudy con cui viveva.